Ma cosa è questa musica a quest'ora di notte, eh? Ehi, sto facendo del mio meglio, visto come sto ammesso. Stasera non ho nessuna intenzione di litigare. Ah, cercate qualcuno? Cazzo. Quante altre persone ci sono? Ma solo una che dorme in quella camera. Su, prendilo e portamelo qui in soggiorno. E se mi dice di no? Non fartelo dire, sei tu quella col coltello, portamelo qui! Ehi. Voi siete reali? Sono reale come un donut, brutta merda! No, vai in soggiorno. Chi cazzo è? Ah, non lo so. Francesca. Oh. Ah, vi conosco. Vi conosco tutti e tre. Sì, Span Rage. Span Rage, sì. Uh. Non so come ti chiami, ma mi ricordo dei capelli. E di te ricordo quella piccola faccia bianca. E tu eri a Cavalluccio. Sì. E tu sei... Sono il diavolo. E sono qui per compiere l'opera del diavolo. No, una cosa più stupida. Era tipo... Rex. Dio, spara gli Dex! Dex! Cazzo! Ah! 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 Dio, spara gli Dex, spara gli Dex, spara gli Dex! Dio, spara gli Dex, spara gli Dex! Ah! Ah! Ehi, tu! Come aus e entrave in quesemilla frutas tranzas! Ehi, tu! Ehi, tu! Ma che cazzo! Gesù Cristo! Ehi, tu! Don't go, Whoop! Ehi, tu! Caudoro! Ehi! Francesca! Francesca, amore!